Giuseppe Caputo è l'autore del libro Il mondo di Faira. Racconta di un gruppo di amici che grazie al loro spirito di sacrificio abbiano permesso al popolo di Faira di non perdere la speranza. Giuseppe, ci parli un po' della sua vita e dei suoi hobby. La mia vita è un po' complessa come hobby, ho sempre l'hobby della scrittura, anche e soprattutto della musica e del cinema. Questi sono stati i miei hobby principali. Anche se non mi sono dedicato in maniera decisa e costante solo ad uno. Questa è una mia caratteristica. Non riesco a fare una cosa per volta. Faccio diverse cose contemporaneamente e a secondo del desiderio e della voglia che ho mi dedico di più all'uno o all'altra. E così anche nello scrivere. Anche scrivendo questo libro non sono riuscita a scriverlo di getto. Infatti ne stavo scrivendo tre contemporaneamente. Secondo che desiderio e che voglia ho, mi dedico all'uno o all'altro. È strano, lo so. È anche difficile portare a termine le cose così, però purtroppo è il mio carattere. La mia vita è, che dirti, sono un figlio unico e questa cosa l'ho accusato un po' e infatti adesso ho tre figli. Ho vissuto l'esperienza purtroppo del sisma dell'80, che mi ha segnato abbastanza profondamente. E niente, ho intrapreso gli studi di prospudenza, anche se poi mi sono accorto che in realtà non erano la mia vocazione principale, però l'ho portato a termine. Poi sono deciso sulle cose. Quando ci posso mettere tempo, ma arrivo alla fine di un percorso. Sto decidendo cosa farò da grande, però penso che questa sia pure un po' la situazione che stiamo vivendo un po' tutti, oggi no, dovuta alla crisi. Io ricordo sempre che mio padre alla mia età aveva la sua vita, quel suo lavoro ed era un uomo di 40 anni. Invece a 40 anni, un po' per vizio, un po' per difetto mio, un po' per quella che è la situazione odierna, sto ancora pensando a cosa farò da grande. Da dove è stato spunto per la scelta del titolo? Guarda, a me è venuto così. Non lo so, allora l'idea è stata proprio di mia figlia, la mia prima figlia Rebecca che ha 9 anni, all'epoca ne aveva 7 e mezzo, 8 e quando disse papà che sarebbe bello una storia, sai ho immaginato una storia dove ci sta una principessa che ha un segno di riconoscimento sull'occhio che la rende particolare e questo mi ha dato proprio lo spunto di scrivere questa storia di Sanfora, il mondo significa poi l'etimologia del nome, significa proprio portatrice del segno. Il mondo di Fire Emme è venuto di getto così, perché Fire Emme è sempre dell'etimologia greca dove significare sfera, quindi questo mondo particolare, fantasy. però diciamo l'origine, proprio l'input me l'ha dato mia figlia, dell'idea della storia e quindi Sanfora questa portatrice del segno. Il mondo di Fire Emme, ho sempre vissuto anche una parte di me, un mondo immaginario, ho sempre avuto questa cosa di immaginare le cose in maniera diversa, in maniera fantastica, in maniera più bella, anche a volte più difficile, ma che era sempre poi un lieto fine e mi è venuto il soggetto, il mondo di Fire Emme, non l'ho meditato, questa non l'ho meditata. In quanto tempo l'hai scritto questo libro? Diciamo che l'ho scritto nel giro di due mesi, perché mi ha costretto mia moglie, no perché sono uno che inizia le cose, poi le lascia, fa un'altra cosa, te l'ho detto, le porto a termine però a tempi abbastanza lunghi, invece grazie a mia moglie che mi ha invogliato l'ho portato a termine poi in due o tre mesi e questo mi ricollega al discorso di prima, sempre per il fatto che siamo costretti oggi a sentirsi giovani e a cercare la realizzazione nei sogni, cosa che in realtà prima non facevamo, uno che aveva un lavoro, aveva il suo lavoro, si dedicava al suo lavoro, poi aveva il suo hobby dove semmai andava, era la famosa valvola di sfogo pirantelliana, invece oggi per mancanza di lavoro sono disoccupato, purtroppo sto cercando di fare di quello che è il mio hobby, spero di poterne fare il mio lavoro, sarebbe bellissimo e forse è anche la scelta più corretta che uno possa fare, quella di prendere il suo hobby, il suo lavoro, perché nella vita penso che se si fa una cosa che piace, la si fa nella maniera migliore possibile, invece vediamo che tanti di noi sono costretti a ripiegare su lavori che semmai non amano, ma che per forza di cosa debbono fare, perciò dico che il mondo sta andando a rotoli, perché nessuno riesce realmente a fare quello per cui ha portato. Raccontati un'aneddoto curiosa legato al tuo libro. Non ce ne sono stati, perché ho concentrato tutto in questi due o tre mesi di lavoro, l'aneddoto curioso, quello che ho detto prima è stato proprio che questo input mi è venuto da mia figlia, cosa che non avrei mai pensato, avevo sempre desiderato di scrivere un libro, questo sì, infatti ne ho avviati altri, però non l'avevo mai portato a termine, forse perché non avevo il filone portante proprio ben definito, invece qua era stranissimo, ecco dovevo scrivere una cosa curiosa che già quando scrivo ascoltando musica non avevo programmato niente, di solito sai avevo persino comprato un libro dove si diceva come scrivere un libro, cioè usare degli schemi, progettare il tutto, non sono riuscito a fare questo, ho provato, ho dovuto stracciare tutto, come mi mettevo davanti al computer, riuscivano da sole le parole, cioè la storia andava avanti da sola e non sapevo come andava a finire, l'ho scoperto pure alla fine come va a finire, che poi in realtà il libro non è finito, ci sarà una continuazione dove vedremo cosa accadrà a Sambora e ai suoi amici, ma l'aneddoto più curioso è proprio questo, che l'input mi è venuto mettendo a letto una sera mia figlia. Ti assumi in una frase, cosa rappresenta per te questo libro e cosa vorrebbe che significasse per i tuoi lettori? Beh, per me, in una frase te la dico in una parola, speranza, il libro è proprio speranza che possa aprirmi una strada e la speranza che il messaggio che è insito nel libro, perché è una storia diretta, uno quando la guarda è diretta da una fetta di pubblico particolare, ma gli amanti del fantasy, quindi dai ragazzi, però in realtà è una storia che può essere letta dal bambino di 10 anni alla persona di 70-80 anni, quindi anche la speranza che il messaggio che è insito in queste poche pagine, arrivi, che non arrivi in maniera distorta, che l'aspetto che sia stato bravo io, capace, non bravo, a trasmettere quello che in realtà volevo dire, perché c'è un messaggio di fondo, non è solo una storia così. La seconda scoperta qual era? Il mondo di Faira di Giuseppe Caputo è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it Grazie per la visione!